E' di due feriti, di cui uno molto grave, il bilancio dell'incidente stradale che questa mattina ha bloccato l'Adriatic in entrambe le direzioni di marcia a Taglio Corelli lungo la nuova variante di Alfonsine. I due feriti sono un quarantenne polacco di Argenta e un cinquantottenne di Piombino. Il quarantenne stava percorrendo la statale al volante di un'opera in Signa, in direzione di Argenta. L'altro uomo era alla guida di un camion che invece procedeva in direzione di Ravenna. Per dinamiche al vaio della polizia locale i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Un impatto molto violento dopo il quale sia l'auto sia il mezzo pesante sono finiti fuori strada. Impressionante le conseguenze sull'Opel con l'avantreno sventrato dopo l'impatto con il camion. Ad avere le conseguenze peggiori è infatti stato il quarantenne automobilista a soccorso dal personale del 118 e dai vigili del fuoco. L'uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito con il codice di massima gravità al centro traumatologico dell'ospedale Bufalini di Cesena. Ferite meno preoccupanti per il camionista il cinquantottenne di Piombino, ricoverato all'ospedale di Ravenna con un codice di media gravità. A coadiuvare gli agenti della polizia locale anche una volante della stradale. Il traffico è stato deviato sulla vecchia statale che attraversa Alfonsine per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi in totale sicurezza. Molti, inoltre, i frammenti di veicolo sparsi lungo la strada.